Ciao ragazzi, oggi impareremo a scoprire i contatti dei MSN del nostro account che sono bloccati o cancellati senza ricorrere a siti internet che possano rubare la vostra identità di MSN è molto semplice, innanzitutto dobbiamo avere MSN Plus installato sul nostro computer se non ce l'avete, digitate su google MSN Plus il sito internet ufficiale è www.msgplus.net dopodiché, una volta sulla sua home page, premete il tasto download gratis si avvierà il download e quando vi chiederà di installare il programma sponsor, voi scegliete di no in modo tale che evitate di riempire il vostro computer di programmini inutili che servano solo da spyware una volta installato, andiamo sul nostro MSN Messenger ed è molto semplice scoprire se un singolo contatto vi ha bloccato o meno per scoprirlo basta andare sul contatto, fare tasto destro, extra di MSN Messenger Plus e informazioni contatto dopodiché ci apparirà in basso a sinistra della finestra se siamo o meno nella lista di questo contatto questo significa in questo caso che questa persona mi ha ancora nella sua lista e quindi non mi ha rimosso per scoprire invece chi ci ha bloccato è semplice, se voi vi ricordate se questa persona aveva uno space di MSN possiamo provare a visualizzarlo se lo space verrà visualizzato in tutte le sue pagine compreso albumo fotografico eccetera allora vorrà dire che non ci ha bloccato questa persona altrimenti invece ci ha bloccato ed è questo attualmente l'unico modo per capire se una persona ci ha bloccato o meno non esistono altri metodi proprio perché Microsoft vuole evitare di far capire agli altri se una persona ci abbia bloccato o meno poi c'è anche un altro metodo per capire bene o male tutte le persone che ci hanno o meno in lista basta andare su questo tasto di MSN strumenti opzioni dopodiché nella scheda privacy avremo praticamente un elenco dei contatti di altri utenti in cui siamo presenti in questo elenco possiamo praticamente vedere tutta la lista delle persone che sono presenti all'interno della cioè tutta la lista delle persone che hanno aggiunto il nostro contatto all'interno della loro del loro account se magari una persona manca al qui dentro significa che vi ha cancellato bene per oggi è tutto alla prossima buone vacanze ciao